buongiorno ragazzi allora mattinata lunga 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 e domani non sarà da meno si vede anche dalla faccia che sono sconvolte i capelli sono più conciati del solito che oggi sia il giorno buono in cui finisco lo sgabuzzino almeno la parte rimobilio no secondo me no però sicuramente vado avanti se ci riesco mi devo subito dalle palle questo allora dai quindi senza ulteriori indugi vedo di finire il frontale del freezer che è la parte noiosa ma la parte facile perché poi la parte complessa è il frontale del porta bottiglie che c'è da capire come fare a 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 ok penultimo pezzo fatto questo qua adesso si può tirare e fare rientrare quando sarà all'interno del contenitore con le guide aprire si apre basta non ne voglio più sapere di listelli anche se a un order vero me ne sono avanzati un bel po' per un prossimo lavoro un bel po' di listelli e una tavola ora il bestione il pezzo più ficcante che è quello il frontale di quello deve essere una parte più ficcante perché deve essere un bel massello basta gatta c'è caldo e la gatta in calore una copiata che non si sostiene dicevo deve essere un bel pezzo di massello tutto traforato ieri ho incollato le tavole adesso devo portare la misura fare due conti e poi cercare di capire come farcelo stare in notata mi è anche venuta un'idea in notata soprattutto dopo aver parlato ieri con qualcuno di voi su come organizzare home assistant che non può andare nativamente su mac il fatto che ho bisogno di un pc per comandare il riscaldamento un mac come server forse mi sono chiarito l'idea definitivamente su come strutturare la parte di là a livello hardware e software in sostanza su un monitor ci sarà il mio mac col mio server che gestirà è la soluzione giusta è indubbiamente la soluzione giusta dicevo su un monitor ci sarà il mio mac che mi farà server che gestirà le telecamere Plex quello che serve per scaricare Plex e tutta questa roba qua e manterrà aperta la schermata fissa a livello di monitor globale sulle telecamere sull'altro monitor invece dato che i monitor hanno comunque due connessioni io non ci stavo più pensando e sarà un mini pc che gestirà il riscaldamento e solo quello e solo quello perché questo riscaldamento qua ha bisogno un mini pc sempre connesso alla sua scheda usb purtroppo non internet perché la versione ethernet costa a lira di dio costa tipo 800 euro e non ho intenzione di comprarla che tenga sempre monitorato l'impianto e soprattutto è da lì che io posso partizionare le varie fasce orarie durante il giorno in cui si deve accendere a che temperatura perché le impostazioni sono veramente tante è un riscaldamento complesso non è che si decide la temperatura dell'ambiente si può decidere la temperatura dell'ambiente del tubo il suo potere irradiante insomma è parecchio complesso e sullo stesso monitor e la schermata di questo pc di questo monitor sarà aperta fissa sul chart del riscaldamento sullo stesso monitor invece un Raspberry Pi per Roma System tanto in sostanza a quasi nessuno dei tre e ad esclusione del pc io accederò direttamente accederò sempre col mio computer da remoto però nel caso ci fosse qualche problema almeno anche Raspberry Pi è attaccato a uno schermo tutta questa parte la vedremo nei prossimi giorni in cui imposterò tutti e tre soprattutto il Raspberry Pi e Roma System che sono veramente curioso di sapere come sia situato e come funziona anche se rifatto di domotica io non ne ho molta in questo momento ma ho intenzione di fare parecchie integrazioni e in nottata mi è venuta in mente anche qualcosa per il lab che se riesco e si può fare è davvero un game changer per me cambierà davvero molto dicevo lo imposteremo nei prossimi giorni così almeno dopo questo lavoro qua e col caldo mi riposo un attimo quindi faremo tutta un'installazione a banco per poi andare a inserirlo direttamente dentro magari sposto il server di là in studio dove c'è almeno un ventilatore dove poter lavorare comunque in tantissimi state chiedendo informazioni su Home Assistant e Raspberry io ve lo ripeto non ho mai usato Home Assistant so usare Raspberry o Raspberry ne ho anche un paio non ho mai visto Home Assistant quindi lo vedremo assieme in diretta non so con che format perché non è che posso fare 400 milioni di storie mentre sono lì e impostarlo però vedremo di capire bene come ora siccome in questo bordello non ragiono e devo fare un sacco di conti mi faccio i 15 minuti di massaia pazza pulisco tutto soprattutto per terra che è tutto pieno d'olio e poi vediamo di sistemare il bestione allora fatto ordine già fatto casino un'altra volta perché ovviamente la tavola cioè per quanto uno possa incollare tre tavole unite non è che riuscirà mai a farle perfettamente allineare e non coprendo ovviamente la mia pialla una superficie da 60 ho dovuto piallare a mano tutti i gradini che c'erano che poi non erano granché è venuta comunque sufficientemente complanare per quello che mi serve cioè io non ho mai piallato lo si evince anche dalla mia dotazione di pialle questa è l'unica pialla che ho come dice Malaspina la piallatura deve essere maschia lui però ha la dotazione di pialle di ora così freddi io mi avvicino di più alla dotazione di pepino di capri però diciamo che me la sono cavata è sufficientemente flat ora devo portarla a misura altezza e larghezza e capire anche se la separazione in realtà quasi non c'è e capire se tenere la tavola centrale al centro e quindi tagliare di qua e tagliare di qua perché a me serve molto meno superficie di così oppure fregarmene tanto ripeto la separazione quasi non si vede una volta che saranno tutti fuori ci vedrà ancora meno poi individuare il punto di partenza esatto e cercare di infilare sta sberle nelle CNC ma penso che dovrò modificare provvisoriamente l'inclusor della CNC per farlo sporgere davanti ora caffè anzi caffè e poi faccio tutti i conti e taglio via a l'eccesso così poi da poterlo finire preferisco finirlo adesso fino almeno alla 120 che dopo che è stato tagliato la CNC già in due o tre mi avete detto che per l'impostazione del server di Home Assistant sarebbe bello se io facessi una live su Twitch ragazzi lo sapete non mi piace fare le cose a cazzo e improvvisate una live su Twitch non l'ho mai fatta da sondaggio presidente il 5% di voi conosce Twitch quindi non sarà questo il caso io farò qualcosa su Twitch ve lo garantisco ma non sarà su una live una live dove devo impostare un server e per la prima volta mi metto a fare Twitch con la chat capire come funziona Twitch mentre cerco di capire come funziona non mi assista su Raspberry cioè divento cretino inutilmente voglio portare a termine il lavoro farò una live su Twitch farò varie live su Twitch appena riesco a organizzarmi dal laboratorio cioè semplicemente così almeno io sono più confidente con quello che sto facendo la mia attività è quella di tutti i giorni semplicemente va in live su Twitch così sì sto organizzando le cose sto parlando con una persona che mi dia una mano che mi darà una mano a organizzare e a gestire tutto poi ve lo dico tranquillamente senza menate di spoiler che devo trovare la mia idea è quella poi fare un giorno al mese almeno per prova iniziale live dal laboratorio 8, 6, 10 ore il tempo che io sto in laboratorio però voglio organizzarla come si deve devo capire bene come funziona Twitch devo attrezzare tecnicamente il laboratorio capire come si fa a gestire una regia con più camere se ho bisogno di una persona come faccio a leggere i vostri commenti ma soprattutto voglio che quella giornata che va extra rispetto alla programmazione dello show qua su Instagram sia dedicata a un singolo progetto così anche chi arriva su Twitch che non arriva direttamente da Instagram possa avere un senso e la cosa anche per lui non vi dico presto ma succederà mi sto organizzando questo purtroppo non è ancora il mio lavoro a me piacerebbe questo diventasse il mio lavoro tutti i giorni ma non lo è quindi ho anche altro da fare che organizzare ste fregnacce allora ho la prova che non sono io a complicare le cose ma le cose mi si complicano non faccio mica di proposito allora io ho qua la mia tavola ok che è 940 come da disegno cioè come da mobile la parte dei fori deve iniziare a 15 cm dal basso e un po' più rispetto all'alto quindi lo spazio utile che io devo che ho bisogno da poter mettere nella CNC è in realtà di 740 la mia CNC copre abbondantemente gli 80 cm perché va sul metro per cui non è certo un problema fresare un pannello da 740 ma il mio pannello è da 940 e non ci sta dentro la CNC il culo vuole però che io riesca ad adagiarlo dentro l'inclusività della CNC e farlo sporgere di quella di là per cui no a sto giro non mi sia complicato un cazzo quindi forse è vero sarà meglio con più che le cose tanto allora sono è una lavorazione da simulazione un'ora e 51 che non è tantissimo ma abbastanza per farmi stringere il culo non ho nessuna certezza sulla riuscita di questa fresata e soprattutto sul fatto di aver fatto i conti giusti per imbroccare i buchi dove devono essere però anzi vedo già che c'è qualcosa si vedo già che c'è qualcosa di strano però vi avviso subito che se non viene non faccio un altro pannello lo faccio bianco e basta perché sto lavoro mi da il volto a stomaco ne posso più tutto settato tutto fisso tutto bello inchiodato tutto complanare tutto speriamo vada bene ora non posso far altro che impostarla tutta e aspettare un'ora e 51 a sto giro niente timelapse perché mi devo mettere a fare delle cose col cellulare quindi non posso farvi il timelapse però ci vediamo tra due ore o più facilmente prima se qualcosa va a puttanea speriamo sono stanco anche perché dopo stamattina sono veramente stanco ragazzi che ore sono c'era le 5 non lo finiamo neanche oggi ok allora le misure le ho prese giuste sta presando tutto giusto non ha sbordato è andato perfetto mi fa bene sperare ora è solo questione di tempo non so se finiamo oggi o no perché ha organizzato un altro dei suoi aperitivi social però mi sa che io sono esentato per fortuna perché solo lei è una sua amica la sua amica ha bisogno di fare dei discorsi da donne tra di loro e quindi vorrebbe che non ci fossi quindi forse mi salvo e se mi salvo e mi faccio un supradin e recupero un po' di forze potrei anche fare una tirata per finire vediamo perché comunque un'ora in me finirà circa verso le 7 dai casomai tiriamo un po' per le nel frattempo un plauso ai programmatori di Instagram che oltre agli nuovevoli problemi e bug aggiunti nelle versioni appena uscite compreso il fatto per me è impossibile di girare la camera se no vengo deformato manco nella casa degli specchi hanno aggiunto un'altro fantastica porcata praticamente mi sono stati contestati due reel e mi sono stati anche rimossi perché non ho autorizzato a usare la musica ma bruttamente catti l'ho presa da voi la musica cioè la musica me la da Instagram quindi mio caro Instagram fai pace col cervello ma soprattutto ficcati in testa una roba quando programmi un app un programma qualsiasi cosa il fatto che la build dell'app vada a buon fine vuol dire che funzioni devi pagare dei beta tester perché il codice potrebbe andare e fare delle porcate male come modificare la gente a effetto smilzo tutte le volte che giri la camera dai che se ci va bene le donne in crisi mi salvano la giornata e non devo andare all'appelettivo social ancora un po' di pazienza sto facendo l'ultimo intanto io ho bordato i fianchi di quello ho tolto tutti i tubi e dato la prima mano di Bondex al piano ce ne vorranno due perché il pioppo non è certo figo come il betulla quindi ce ne vorranno due per quanto io sia stato esentato la vedo veramente dura a finirlo stasera perché non manca poco c'è da oliare tutto quello tagliare la misura incollarlo mettere dentro quelli e fare i collegamenti elettrici in più domani e stanotte devo lavorare domani ho una levataccia domani prestissimo quindi non lo so sono fortemente in dubbio se farlo tutto di corsa magari finire alle 10 o fermarmi e domani nel pomeriggio con calma chiuderlo allora questo è fatto va tutto pulito dalle abbondanze ho fatto gli eccessi del taglio rifilato in cima all'altezza giusta smussato i bordi e ho oliato tutto quello è pronto questo ha solo la seconda mano quindi ho bisogno solo vendere una carteggiata a 400 facciamo che non ci ricasco facciamo che ancora una volta non corro per fare un lavoro fatto poi col culo facciamo finta che io sia in grado di fare esperienza dalle volte precedenti e mi fermo qua finirei troppo tardi ho fatto troppo roba da fare domani poi sono troppo rincoglionito per quello che devo fare quindi a posto così anche perché quando ho iniziato il laboratorio di istrame dello show mi ero ripromesso che non avrei mai preso nessuna scelta progettuale in funzione dello show o in funzione dei social e vorrei mantenere fino adesso non l'ho fatto vorrei mantenere questa linea quindi se allunga di un giorno ciccia vostra non so che dirvi funziona così io ma una sola perché tanto poi devo cominciare a lavorare e ci ho anche dato a mangiare i cani e sono da solo con i cani stasera ragazzi ci vediamo domani io non ho capito quale genere di deficiente io sia lavoro con legno, seghe, roba tagliente, roba affilata tutto il giorno e non mi sono mai fatto niente vado a togliere la patumiera ma come cazzo non mi sono mai fatta non mi sono mai fatta non mi sono mai fatta ma cambia